Dal 2000 il ghiacciaio del Calderone è diviso in due glacio nevati e quanto emerso dalla carovana dei ghiacciai di lega ambiente, arrivata alla sua seconda edizione e realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano. La sua posizione al centro dell'area mediterranea e la ridotta distanza dal mare rendono particolarmente intensi gli effetti dal punto di vista meteorologico che si manifestano con gli elevati apporti nevosi a cui si contrappongono le sempre più frequenti ondate di calore africane con le sabbie in sospensione che favoriscono in maniera molto ingente i fenomeni di fusione. La sopravvivenza del glacialismo nella conca del Calderone è legata all'effetto protettivo svolto dalle alte pareti delle cime che la racchiudono e dalla copertura detritica costituita dal detrito calcareo che con la sua colorazione chiara favorisce la riflessione dei raggi solari. Monitorare il ghiacciaio del Calderone vuol dire guardare un indicatore climatico. È importante la tutela dell'ambiente nel suo complesso perché è impossibile tutelare un solo ambiente sperando che qualcosa cambi se non si tutela l'insieme dell'ambiente. È fondamentale ribadire il fatto che l'acqua dolce sulle terre emerse viene fornita proprio dai ghiacciai. Consentono di avere un apporto continuo di acqua per il consumo umano e quindi è fondamentale tutelare l'ambiente per tutelare i ghiacciai e per tutelare la risorsa idrica principale che è l'acqua che noi beviamo tutti i giorni. Il ghiacciaio dall'anno 2000 è suddiviso in due glacionevati, uno superiore e uno inferiore, ricoperti dal solo detrito a fine estate. Al di sotto del detrito il massimo spessore di ghiaccio residuo è risultato dalle misure dei ricercatori pari a circa 25 metri, con una diminuzione complessiva di spessore di circa 9 metri negli ultimi 25 anni. Nello stesso arco di tempo la superficie glaciale, che nel 1994 risultava ancora superiore a 6 ettari, si è ridotta di oltre il 65%, arrivando a misurare ormai poco più di 2 ettari. Come per tutti gli altri ghiacciai italiani, anche sul calderone il segnale dell'inquinamento è risultato molto evidente, con la presenza di tracce di cessio radioattivo a seguito dell'esplosione del reattore di Chernobyl nel 1986. L'Abruzzo, come il resto del paese, deve vivere una stagione nuova, che comporterà una transizione ecologica. Una transizione ecologica significa, rispetto ai cambiamenti climatici, ragionare in termini di adattamento e di mitigazione. Per l'adattamento c'è tanto da fare, ad esempio in montagna pensiamo alle stazioni sciistiche che in qualche modo risentiranno della mancanza di neve e allora bisognerà ragionare insieme alle popolazioni, insieme alle istituzioni locali e pensare a quale tipo di sviluppo nuovo proprio in conseguenza dei cambiamenti climatici.